La Toscana dunque resta arancione al termine di una giornata frenetica sul tavolo del presidente Eugenio Gianni. La questione delle scuole è stata quella primaria. L'indici confermono il rialzo dei contagi anche secondo i parametri dettati da Roma. La presenza delle varianti inglese e brasiliana diventa un fattore di rimette. Toscana dunque arancione, anche per questo la situazione delle scuole rimane sotto esame da parte dei sindaci dopo il punto fatto da Gianni che si è confrontato con i responsabili della sanità. Per Arezzo città prosegue l'ordinanza del sindaco Ghinelli. Quindi restano chiuse le scuole con l'esclusione di nidi e materne. Chiuse le scuole anche a Marciano, Lucignano, Castelfranco e Piendiscò. Riaprono da nuodì a Castiglion-Fiorentino dopo la settimana di stop. Restano aperte a Castiglion-Fibocchi per Capolona, Monter, Chiagnari e Assubbiano. La decisione verrà presa nelle prossime ore, anche se l'indicazione sembra ormai abbastanza chiara.